A Sarra e Moglia Arcaica presentano il loro nuovo singolo. Ciao a tutti, il nostro nuovo singolo si chiama Shadow Me. È una canzone in inglese che parla di due parti di noi stessi. Quella parte fragile che parla la parte più forte e hanno un dialogo per cercare di trovare quella forza interiore di affrontare i propri ostacoli e ritrovare se stessi. Spesso e volentieri la difficoltà principale è proprio quella di far coincidere anche dei lati della propria personalità soprattutto quando emergono delle situazioni difficili da affrontare che sembrano mettere in ombra quelli che sono i nostri lati positivi. La forza che vogliamo comunicare tramite questa canzone è proprio la capacità di riuscire a mettere in ombra i lati in ombra per cercare di farli convivere comunque con i nostri lati più positivi e con una sorta di equilibrio interiore. Contatti social e dove trovare il pezzo? Allora, i nostri contatti social è Arcaica Official su Instagram e il brano lo possiamo trovare su tutte le piattaforme digitali Spotify, Amazon, iTunes, Apple e l'uscita sarà a breve perché uscirà insieme ad un EP che presenteremo il 3 marzo. Ciao ragazzi! Grazie a te! Grazie a voi, grazie! Grazie a tutti!